Prima per montare un video lungo ci mettevo circa due ore solo per i tagli, ora ci metto dieci minuti, ho risparmiato un sacco di tempo ed è incredibile la quantità di tempo che l'AI mi fa risparmiare. No, non è un clickbait, è proprio la verità, quello che accade, anzi facciamo così, ti mostro due opzioni che uso frequentemente, anzi sempre su quasi tutti i video, perché così ti faccio capire quanto tempo risparmio e poi ti mostro le altre. Qui abbiamo una clip con tutti i punti morti, allora clicco col destro perché sono lo script, a volte non tutti i video, però qui lo faccio, allora strumento di modifica smart, rilevamento del silenzio, arrivo qui dentro, ci sono tutta una serie di cose che posso impostare sulla destra, lo sposto così si vede meglio, poi faccio inizio e lui continua, inizia ad elaborare. Che cos'è che va a fare? Va a trovare quelli che sono i punti morti, posso andare a fare la durata minima, quanto voglio che duri, magari 0,5 non mi piace, vedo fare 0,4, faccio termine, istituisci ed ecco che praticamente mi ha già tagliato tutto il video. In questo caso sono passato da un video di 12 minuti a un video di 8, poi ci sono delle ripetizioni, devo tagliare, ma ora quello che andrò a fare è semplicemente ascoltare e togliere le clip che non mi interessano. Il risparmio è veramente tanto. La seconda cosa che vado a realizzare è sull'audio. Allora io prendo un audio, lo trascino nella timeline, poi in questo caso uso la funzione di audio stretch che trovo qua, quando ce l'ho abilitata praticamente posso prendere, fare così e lui con l'intelligenza artificiale mi va praticamente a creare la musica a seconda del tempo che gli ho dato. Quindi posso allungarla o posso stringerla per fare in modo che coincida con la clip che sono andato a selezionare. Questo è molto interessante perché molte volte trovi una canzone finale che dura 12 secondi ma il finale dura 20 o il contrario e quindi non sai come fare, tagli, incolli, tagli, incolli, così l'hai già fatto. Queste sono le due opzioni che mi fanno risparmiare un sacco di tempo. La prima è incredibile ovviamente. Il software che sto utilizzando è Guondesher Filmora, per me il miglior software di editing video in circolazione perché fa parte di quelli che io chiamo i software di mezzo. Con la maturazione di internet abbiamo vissuto in tutti i settori dell'informatica a questa esplosione dei software di mezzo. Ovvero ci sono le cose molto facili, per esempio il taglio lo puoi fare con dei software base come iMovie e poi ci sono le super cose complesse come Premiere. Sono nati invece i software di mezzo che consentono a persone come me che non ne capiscono niente di editing di fare delle cose più facilmente ma cose comunque interessanti nell'ambito dell'editing video. Ecco che Guondesher Filmora per me è il miglior software di editing attualmente a disposizione. La cosa interessante è quella che dico sempre. Quanti servizietti sono nati che cancellano il rumore nei video? Tantissimi. Ti devi abbonare, ti iscrivi eccetera eccetera. Poi arriva Filmora e integra un sacco, ora le vediamo, di opzioni di AI generativa e non che ti fanno capire come avere un microservizio è veramente un rischio perché un software del genere, un aggiornamento, sono migliaia le persone che lo utilizzano e quindi praticamente si prende un mercato. Come sto dicendo spesso nel processo della content creation ormai l'AI è proprio integrata completamente, dovremmo abituarci come abbiamo fatto con la barra degli editor che c'è la B per il grassetto. Uguale, abbiamo questa tipologia di opzioni. Da Filmora sono stati veramente bravi e intelligenti perché hanno fatto questa cosa qui. Quando tu selezioni una clip e vai per esempio nella parte video hanno strumenti di AI, alcuni li usavano prima, invece altri li hanno messi e quindi ci stanno dicendo che usano l'AI. È un po' un giochetto, però sì, il chroma key ad esempio è molto interessante da questo punto di vista. Facciamo che mi sposto, divento cerchio e vi voglio mostrare il chroma key come funziona. Allora, una volta che ho selezionato chiave cromatica, la cosa molto molto interessante è che praticamente ti fa fare un campionamento direttamente sulla clip. Quindi vai qui e con la chiave cromatica tu gli dici, ho sbagliato la clip, eccola qua, eccola tolto, gli dici, ed è, qual è il colore? Puoi compensare, puoi fare un sacco di cose, puoi usare la tolleranza, è davvero davvero incredibile tutto quello che stanno facendo per esempio sul chroma key. Ora lo togliamo, ma non c'è solo questo, c'è praticamente anche quest'altro AI che ti fa fare proprio sulla figura, oppure c'è il ritaglio intelligente, ti fa tracciare quella che è praticamente il tuo ritaglio perché lo fai a mano con, vediamo, eccolo qua, con la selezione per esempio manuale. Ok, ora lo salviamo, fa tutta una serie di cose. O ancora c'è il monitoraggio del movimento che ti fa praticamente, ti segue quando ti muovi, c'è la stabilizzazione, la correzione dell'obiettivo, in base a come hai registrato, ti dice che che GoPro hai, cioè è veramente veramente interessante tutta quella che è l'AI generativa o l'AI in altri modi, diciamo qui altri metodi di AI qua dentro nei video. Non solo, c'è tutta la parte dello speech to text e del text to speech ad esempio, questa invece è a pagamento, Filmora è a pagamento, io ho comprato Lifetime, questa è ad abbonamento anche, nel senso che è a consumo. Puoi addirittura generare il testo in SRT per caricarlo da altre parti o puoi semplicemente mettere il testo su tutti i tuoi sottotitoli. Ora, selezione, no, l'intera sequenza non la clip, faccio il testo, faccio ok e praticamente lui poi me lo va a generare, vediamo, lo rifaccio un attimo, testo, italiano, ok, ah sì l'ha fatto. E qui in timeline ho la possibilità di modificare ogni singola parola, che è quello che fanno molte applicazioni di AI. Insomma, oramai possiamo fare di tutto, dall'editing col taglio all'audio stretch, alla possibilità di mettere i sottotitoli o generare dell'audio, alla possibilità di usare il chroma key o cose intelligenti. C'è anche la possibilità di prendere le immagini con praticamente l'intelligenza artificiale generativa direttamente da Filmora con tutti i vari prompt. E' quello che dico, l'integrazione dell'AI non è lo strumento esterno ma sarà sempre di più nei vari software che continueremo ad utilizzare. Filmora è diventato davvero un software davvero incredibile da questo punto di vista e l'AI per noi sarà uno strumento come tanti altri. Sì, lo so che è uno strumento, poi c'ho quelle che mi dicono, ah non è uno strumento. Raga, dai, smollate un po', tanto le parole saranno quelle che useranno le persone e poi noi faremo tutte le lotte per dichiarare quelle che sono le parole giuste da usare, però insomma è così. Noi ci vediamo settimana prossima con, non so se settimana prossima o domani, boh non lo so perché non so quando pubblicherò questi video. Comunque ci vediamo con un altro video o con un podcast. Ciao.